Che devo dire che mentre la E78 la aspettiamo da 40 anni, ma non c'era, se non arriva non cambia in peggio la situazione. Medio Etruria no, se Medio Etruria viene collocata in un posto che ci penalizza e per noi le cose comincerebbero ad andare peggio. Per questo mi auguro che ci sia un ripensamento rispetto all'indicazione che ha dato il tavolo tecnico romano. Medio Etruria a Rigutino resta uno dei principali obiettivi per il primo cittadino di Arezzo che assieme alla Giunta ha tracciato il consueto bilancio dell'ultimo anno, un 2023 segnato a livello internazionale dai conflitti. Guerre che ci danno preoccupazione per il futuro, ma ci sono guerre che ci hanno provocato un disastro dal punto di vista dei costi delle materie prime, dal punto di vista della disponibilità dell'energia. Rispetto a queste comunque la città di Arezzo ha reagito bene. Brillante in questo 2023 il bilancio delle attività della Polizia Municipale che nel corso dell'anno ha accertato 177 violazioni di cui 128 trasmesse all'autorità giudiziaria. Oltre 64.000 invece le violazioni al codice della strada contestate e nel 2024 ci saranno novità importanti. Sono previsto l'acquisizione di 12 nuove unità per la Polizia Municipale per portare la consistenza numerica dei nostri agenti a un livello tale da poter consentire di fare nei fine settimana per adesso e soltanto nel periodo estivo il quarto turno. Quindi dare una copertura 24 ore della Polizia Municipale sul nostro territorio. Due poi grandi cantieri attesi in città nel 2024, quello per la rotatoria di Via Fiorentina e quello in Via Fabio Filzi dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale. Via Fiorentina è già ripartito nel senso che tutte le opere accessori sono già state fatte, ora si deve lavorare proprio sulla strada e si ricomincerà da gennaio. Mentre per quello che riguarda la caserma della Polizia Municipale abbiamo avuto una risoluzione di un contratto con il soggetto che è proprietario di quell'immobile che in parte lo ha già trasformato perché i tempi non erano più possibili con quel tipo di impresa che realizzava i lavori. E quindi si ripartirà attraverso due possibili strade o l'acquisizione a prezzo da concordare da parte del comune di quell'immobile oppure se c'è la disponibilità da parte del soggetto attuatore che è un sistema di banche di riaffidare loro i lavori a una diversa impresa con un cronoprogramma nuovamente sottoscritto e che porti a compimento l'opera in tempi ragionevoli. In arrivo nei prossimi mesi anche un vero e proprio piano anti-buche. C'è una programmazione di rinnovo delle superfici stradali di molte strade, non vi sto ad entrare nel dettaglio, ma che prevede nel periodo primavera-estate una serie di cantieri che rinnoveranno in sostanza gran parte delle nostre strade.